Ultimi appuntamenti ufficiali per il prefetto della BAT, Clara Minerva, che presto lascerà gli uffici di Barletta per fine mandato. Oggi ha voluto incontrare nella sede della provincia tutti i sindaci del territorio. Il servizio di Francesco Rossi. Colgo l'occasione per rivolgere un saluto veramente affettuoso a queste comunità che mi hanno accolto con la generosità, con le ospitalità che caratterizzano questi luoghi. Naturalmente c'è il fatto di essere pugliese e per me quando sono arrivata qui, sapendo che questa provincia era in via di completamento, ha costituito un grande stimolo e ci siamo messi a lavorare veramente con grande passione. Accanto a questi momenti belli ci sono state anche grandi tragedie in questo territorio. L'incidente ferroviario. Io vorrei rivolgere ancora una volta un pensiero commosso alle vittime e alle famiglie che hanno perso i loro cari. C'è stato con la prefettura, con i sindaci ovviamente interessati, questo ecco spero, questa anche vicinanza che era dovuta, ma soprattutto vorrei ricordare, oltre all'efficienza di tutta la macchina di soccorso, compresi i volontari e poi quella raccolta del sangue che è stata fatta dai volontari, dai cittadini della Batte e della Puglia, che è veramente una bella pagina di solidarietà che dobbiamo tutti tenere presente. Era doveroso da parte dell'istituzione, quindi i sindaci in questo caso che sono anche consiglieri provinciali, da presidente della provincia salutare il prefetto, ringraziare per il lavoro che è stato svolto per questo territorio, chiaramente con tutte le problematiche che sono state affrontate, che arrivano dall'emergenza quotidiana rispetto alla programmazione e che sono sempre state affrontate con grande senso di responsabilità, avendo condiviso anche momenti di risultati importanti, ma anche momenti di tragedie come quelle del disastro ferroviario del 12 luglio del 2016. Però occorre dire anche che c'è sempre stata grande collaborazione da un punto di vista istituzionale tra l'ufficio territoriale del governo, la prefettura, il prefetto e le comunità locali, che fanno parte della provincia Barletta-Andreatrani, e si è lavorato anche per portare a compimento la realizzazione degli uffici periferici dello Stato. Mi riferisco alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Non per niente di questi giorni si stanno approvando le perizie di variante per quanto riguarda la Questura, i lavori sono in corso e noi entro il 2018 completeremo l'iter progettuale.